Oggi ogni round do ad aprire bustine di carte di Stable Guys, voglio diventare povero Conti, capito bene? Te lo dico, oggi voglio fare tantissime partite così almeno spendi tanti di quei soldi che io godo tantissimo No, 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 dai, facciamo una cosa, facciamo che oggi non ne facciamo tante, ne facciamo il giusto, quelle che faccio sempre ogni video e senza che io diventi povero ogni volta, hai capito? Ma quindi dici 100 bustine e basta, no? Oh, il cowboy, che cacchio dici 100 bustine? Allora, senti, questa sfida si potrebbe annullare, ragazzi, se in caso io dovessi fare almeno due vittorie, quindi io questa mi auguro di farla e anche quella dopo, che così non facciamo più round e già una bustina la devo aprire Però scusami, io cos'è che ci guadagno? Io non ho le bustine di Stable Guys, voglio aprire pure io questi pacchetti, quindi spediscimi le carte Eh, vuoi che ti spedisco? Aspetta che ti spedisco questa Eh, ma mi è andata a quel paese sicuro Eh, no, ti voglio regalare delle mandorle, non so se ti piacciono le mandorle Grazie, adesso chiamo la polizia Nooo E se hai capito bene, Cotis, in caso io dopo dovessi, orca boia, quando andiamo veloce In caso io dopo dovessi vincere questa partita, ne apro tre, ne devo aprire tre, perché comunque sono tre round Ma tanto è inutile che dici se vinco, se vinco, finché tu chiami Contins a giocare, vincerà tutte le partite lui, cioè io vincerò tutte le partite, te lo dico Vabbè, ho visto Conti, infatti sono primo di smisura, porta voglia Mi sono qualificato per primo Eh, perché stai facendo il coso del bacio? Dov'è che devo, cioè, nel senso, cos'è che devo baciare? Comunque posso dire che mi sto divertendo tantissimo, cioè ogni volta che facciamo un round io già sto pensando che devi spacchettare e spendere soldi Sì, 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 divento povero ragazzi, ma almeno oggi, sapete che cosa? Finalmente, dico finalmente, posso completare il mio raccoglitore delle carte di Stambu Guys Sono primo, no Conti, sono primo, non devo far vincere Boa, non lo devo far vincere Conti non se ne parla, Conti non se ne parla, porca boia, ragazzi è un fenomeno Contis, è un fenomeno Conti Sono troppo forte, sono più forte di Follettina Creation No, 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 non se ne parla, non se ne parla, ragazzi, non posso fare così schifo No! Conti, ti prego, fermati, io giuro, vengo a casa tua, ti faccio un qualcosa Ti vengo a bussare alla porta, te la distruggo, hai capito? Eh, vabbè, se mi bussi alla porta ti mando a fare in taglie Let's go! E devo aprire un'altra bustina in più Aspetta che voglio fare un balletto della vittoria, ok? Guarda il mio sedere, mamma, mamma, mamma No, Conti, non voglio vedere il tuo sedere Questi ragazzi sono tutti i pacchetti che andiamo a spacchettare oggi Sono tantissimi, io, eh, io non voglio spacchettarli, ok? Però ragazzi, il primo pacchetto speriamo di trovare almeno qualcosa di decente Perché se no veramente sono una persona molto, molto, molto triste Intanto complimenti come non riesco ad aprire un pacchetto Signori, eccoci qui, allora, prime carte, mettiamole prima a posto Niente, le ultime due ragazzi devono essere quelle che gli puzza sedere evidentemente Perché se no non si spiega Let's go, baby! La prima è quarterback Poi abbiamo, ok, questo qua per niente è bello Lui carino, lui molto carino E attenzione, penultima, prima della speciale 3, 2, 1, boom! Ok, non ce l'avevo Molto carino, ragazzi Dopo, naturalmente, andremo anche a completare il mio raccoglitore Però adesso, ragazzi, direi che è arrivato il momento di un'altra bustina Perché questa bisogna sempre aprirla in modo cautela Con cautela, ragazzi, capito? Nel frattempo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale Che è la cosa più importante E in più, seguitemi pure su Instagram Che lì vi aggiorno sempre su ogni cosa Ok, allora, qua abbiamo lui Qua abbiamo lui Ok, il re prima della speciale Ragazzi, ti prego, fai che sia una speciale Fai che sia una speciale, ti prego E, boom! Un cacchio Ho trovato, ragazzi, il Lion Beast Che questa, però, è una delle carte più rare e leggendarie Quindi sono molto, molto, molto contento Quindi ce la teniamo qua Bello che tranquillo E, ragazzi, attenzione Perché adesso ne abbiamo un altro, ok? Allora, abbiamo lui Poi abbiamo il tipo dalla Francia Che assolutamente non mi piace, ragazzi Ok, poi abbiamo Pinocchio Non troppo carino, Pinocchio Ragazzi, let's go, baby Prima della speciale Unice dalle speciale, speciale Fai che sia una speciale, ti prego E, boom! Oh! Inferno Dragon, ragazzi Ce l'avevo già, mannaggia Ma almeno una speciale E sono stra contento di questa speciale qua Guardate che carina Terza volta Seconda volta che la trovo Quindi, ragazzi, se volete La do al primo ragazzi Che mi fa seguire su Instagram In questo momento Quindi è in vendita in questo momento Esattamente, ragazzi Andatemi a seguire adesso Poo Epsilon Team Mi raccomando Se volete ricevere questa bellissima carta, ragazzi Poi mandatemi un DM E scrivetemi che in caso ve la mando E dopo, signori Questa botta di sfortuna Perché più che sfortuna È una botta di fortuna No, aspetta Vabbè, avete capito quello che ho detto? Ti giuro, non sto capendo quello che stai dicendo Però l'unica cosa che sto facendo in questo momento È concentrarmi al massimo Oh, bravissimo Vieni qua, Conti Vieni qua, Conti Vieni qui Ti devi togliere Ti devi togliere Hai capito cosa? Non mi far dire cose brutte Ah, no, tranquillo, tranquillo Infatti io non farò assolutamente nulla No Pova, ti prego Ti voglio tanto bene Sì, ce l'ho fatta Eh, senti Ti è andata bene questa volta Ma non ti andrà bene La prossima Sai perché? Perché c'è Pova in agguato Con il super abbraccio E qua, Conti Attenzione, è la tua mappa preferita Indovina un pochino perché? Eh, perché ci stanno gli aghi Che ti vanno nel sederino Bravissimo Ragazzi L'ha presa al volo questa gamba Perché ormai lo conosco Cioè, ormai Eh, no L'ha presa nel sederino Cioè, nel senso, capito Vabbè, vabbè L'ago Vabbè Eh, non mi faccia Tutteriori domande Comunque, signori Pova primo Adesso Però non è che funziona Come la partita di prima Che arrivo tutti i round Prima e quant'altro E poi arriva l'ultimo Che c'è Conti Che mi supera Non funziona così, capito? Allora, ti spiego Qual è la mia tattica Io adesso ti faccio vincere Ti faccio divertire Poi all'ultimo round Ti faccio il sederino E ti supero E tu non vincerei neanche una partita Ah, pensa un po' Vieni qua, brutto schifoso Vieni qua No Beh, complimenti Sei morto anche tu Bravo Beh, bella tattica Intanto sono davanti a te Via da me Basta Pezzo schifoso Oh, attenzione ragazzi Guardate come Come si arrabbia Compires Oh, eh Sì, dai Oddio Ma ci siamo uniti Let's go Ma cosa era successo? Tipo eravamo una sola forma Ma Oh, questa Conti Sono un gran genio Sono il più forte dei più forti Perché non mi è mai capitato di perdere E quindi non ho andato ad aprire altre carte Hai capito? Ma la cosa è che tu dici sempre così Ma poi muori Quindi stai zitto per favore Che sennò porti sfortuna Oh, porca boia Hai ragione Sai che cosa? Ero già tipo al penultimo piano Fantastico, vero? No, fantastico proprio un bel cacchio Io sono ancora al primo piano Perché me la sto chillando tutto tranquillo E vincerò io Oh, ne sono sicuro Allora, Conti Vieni qua con un piccolo regalino da farti Anche ho un regalino Però non te lo posso far vedere Perché sennò ti banano il video Oh, hai capito? No, aspetta Non lo voglio sapere per davvero Allora se mi banano il video No Non è quello che pensi Ti volevo mandare a quel paese Per una maniera un po' più Vabbè, vabbè Andiamo avanti Ah, ok, va bene Lasciamo stare Ragazzi, 1v1 è incredibile Io contro Compins Oh, Conti Se questa qua io non la vinco Veramente vado in Burundi E vado a fare un bel giro dell'occhio in Burundi Dai, ragazzi Deve essere contenti Poi va a fare un sacco di vlog nel Burundi Vabbè, è bello Non c'è neanche Wi-Fi Vabbè Vabbè, comunque è bellissimo posto Il Burundi Tralasciato questo Conti, tu sei ancora vivo? Senti, ho già capito una cosa Va, via Oh, oh Cotto, 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 cotto Dai, che sei all'ultimo piano No, no Ho potuto fare il doppio salto Come funziona sta roba qua Conti Allora Eh, dimmi cos'è che vuoi Io ti dico Sono al primo piano praticamente Sto salendo e basta Porca boia Ok, ok Ho visto, ho visto, ho visto ragazzi Assolutamente Non posso che fare una brutta scelta qui Allora, vediamo No Ma no, ragazzi Sto cercando di morire apposta quasi Non riesco a capire Guarda, te lo dico Per non far perdere tempo Anche ragazzi che ci seguono Buttati Perché tanto Cioè, muori sicuro Mi dispiace dirtelo Ok, facciamo un gioco Freeze challenge Non ti puoi muovere Se no, non lo so Vieni banato da YouTube Aspetta, per quanto devo però? Uno Due Per dieci secondi Dieci secondi No, no Due Porca mondo Sono caduto E, e, e E spacchetta E spacchetta E può spendere soldi Eh, quanti pacchetti siamo? Otto Nove Quedici Seconda partita completata Ragazzi Guardate ancora Quante ce ne sono Porca voglia Ah, va bene Sì, sto facendo abbastanza schifo Devo essere sincero Su Stumbleguise Non sono sicuramente Il migliore oggi Anche perché sto un po' regalando Le partite a Contis Devo essere sincero Allora Abbiamo Disco Dilan Abbiamo Cyberpunk Abbiamo Snowman O nessuna carta al contrario Ecco appunto L'ho detto Abbiamo lui che è il robottino Ragazzi Attenzione Poi abbiamo Let's go baby Mi mancava ragazzi Mi mancava lui E adesso ho tutte le speciali No, tranne due, tre Ok, sì Non me ne mancano tantissime Però deve essere sincero Guardate che bello Quello, bellissimo Sono troppo contento ragazzi Di questa cosa Della zio manca un pochino Mamma mia Troppo bello Deve essere sincero Questa me la tengo qui Questa la mettiamo qua Oh ragazzi Ne abbiamo trovate due adesso Sono molto contento Secondo pacchetto ragazzi Vi immaginate Adesso trovo un'altra speciale Vi immaginate Tipo adesso trovo Una speciale che non ho Farebbe molto ridere Allora South Korea Qua abbiamo il Cioè Scusa Questo qua è della Corea Questo qua è dell'Argentina Poi abbiamo invece Superman Ok Poi abbiamo lui Ti prego dimmi che non è al contrario Come finale ragazzi Oh Ok Vabbè l'astronauta ragazzi Non ci possiamo Non ci possono andare bene tutte Devo essere sincero Le mettiamo qua Queste che sono troppo belle Adesso che sincero Mi piacciono troppo Questi due qui Andiamo naturalmente A sbustare altre E ragazzi Attenzione Attenzione Ultimo pacchetto Questa volta Credo che sia anche l'ultimo ragazzi Di una grande serie Perché ho shoppato decisamente tanto Ok Poi abbiamo Rudolf La renna matta Poi abbiamo lui Ancora Ma porca vuoi Ma che sono tutte al contrario Ah ancora lui Fantastico Dammi lui che non è al contrario Oddio 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 Naturalmente ragazzi se trovo doppioni Naturalmente vi regalo voi La cosa più importante che rimane è iscriversi al canale E seguirmi su Instagram ok? Poi saluti su Instagram Laser Tracer ragazzi con 32 persone L'avete mai visto? No perché questa qui è una bella partitonza Che ho creato io proprio per non farti vincere È proprio strutturata per non farti vincere Conti Sì è strutturata per non farmi vincere Però hai messo una delle mappe che io ho cesso furtissimo Nella Laser Tracer Quindi hai un po' sbagliato No più che altro sbagliato per i bot Guarda c'è già 13 eliminati su 16 Dal primo round Dopo un laser No ho sbagliato sì Conti E pensa un po' siamo già a 7 bustine ragazzi Cioè ho appena spacchettato 6 bustine Adesso siamo a 7 E poi saliva in finale pure 8 Non posso fare una cosa Tipo mi squalifico adesso Così non va più Facciamo una bella sfida adesso Facciamo una cosa Se non riesci a vincere questa partita Tu mi devi regalare 30 pacchetti di figurine E invece se vinci tu Io ti do 100 euro Che potrei comprarti altre figurine Oh porca boia ragazzi Altri contenuti con le figurine Allora sai che cosa Conti Vattene via Vattene a quel paese Scappo 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 Vabbè che non è neanche la finale Porca boia C'è la polizia Come c'è la polizia Ti stai seguendo la polizia Conti? No vera era capito per il meme Aspetta Pua viene un attimo Questo fa vedere una cosa Sì Secondo te io non l'ho fatto apposta Certo che l'ho fatto apposta E per tirarti questo calcio Pum Ok Pua Concentrati perché questo è il tuo ultimissimo round E ti devi concentrare perché anche qui sono molto bravo Ah esattamente Ultimo round ragazzi Se vinco E naturalmente con questa cosa vincerò Conti Tu prova a tirarmi un pugno Vengo a casa tua Ti butto dentro la lava In vita reale però Non è una cosa bella quella che hai detto Deve essere sincero Cioè andiamo direttamente a Napoli Andiamo davanti al Ah ho capito ho capito Davanti al vulcano Sì davanti al Vesuvio Ti butto io dentro Ci facciamo un video Nel frattempo tu registri E almeno Che vero Oh però scusa C'è un contenuto assurdo Boba 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 ce l'ho fatta Non ci posso credere Olca boia Sì un bel contenuto assurdo Cioè la cosa che muori Poi però va bene Comunque Aia Mannaggia a te Posso dire che sto sudando Perché nella block dash Devi essere molto fortunato A schivare tutti i blocchi Oh conti Siamo uno v uno v uno Mamma mia che pugno ragazzi È stato un pugno assurdo Che bacca Ok ok Sì è morto conti Let's go Vipo ho vinto signori Sì devo spostare altri sei pacchetti Ma almeno la mia tortura È finita qui Ho fatto il three round ragazzi Di conseguenza Devo aprire questi altri tre pacchetti Va bene va bene dai Non ci fanno assolutamente schifo Noi li vogliamo aprire Va bene che Siamo pagati Una cifra incredibile Però va bene comunque Allora Abbiamo Stumble Queen Chili Penguin Molto carino il pinguino Poi abbiamo questa signorina qui Ciao signorina Abbiamo il Ninja Kai Spero che non sia il contrario L'altra E al contrario Abbiamo lo schienettrino rosso Ragazzi Questa qua la uso Sempre su Stumble Guys Perché è una delle mie skin preferite Anche se non è troppo rara Però Devo essere sicuro Mi piace Proprio perché è bella Molto molto bella Ultimi due pacchetti ragazzi Let's go baby Let's go baby Non ci fa solitamente schifo Sbustare così tante cose belle Allora Astronauta Perfetto Fireman Ash Questo qua ragazzi L'ho trovato 12.000 volte Se non vi stiamo ancora iscritti Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi al canale Abbiamo lei E poi come ultima Attenzione dopo la valchiera Abbiamo una leggendaria Ed è Jack Lantern Che già ce l'ho ragazzi Ok qua ci sta andando un po' peggio Anche perché vi ricordo Che abbiamo trovato queste tre Che sono stra belle Queste tre sono la cosa Più bella del mondo Infatti le lasciamo qua ragazzi E noi ci apriamo intanto L'ultimo pacchetto Prima che ci salutiamo Ok Intanto voi non avete idea A destra Che casino che c'è Anzi un pochino Lo potete andare a vedere Allora abbiamo Il signore Retro Guy Bene Abbiamo il rooster Che è un piccolo polletto Abbiamo l'ufficiale Abbiamo uno schietro Che è questo che mi mancava Attenzione ragazzi Come ultima Oh Wow 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 Boom baby Tre Quattro speciali Anzi peccato questa qua Che già ce l'avevo Ho trovato due doppioni ragazzi Su quattro speciali Due doppioni Che vabbè Poteva andare peggio Devo essere sincero Ma ragazzi Queste due qui Sono le più belle Anche perché non mi mancavano E queste due ragazzi Lo ripeto l'ultima volta Ve le regalo a voi L'importante Che vi iscrivete al canale Mi seguite su Instagram Poi se non ti vi mandate Poi un DM In cui dite che avete fatto tutto E poi Nulla Vi arriveranno direttamente A casa vostra Quindi guardate che belle che sono Quale preferite ragazzi Scrivete qui sotto nei commenti Con tutti questi altri pacchetti Il rimanente ragazzi Che ci saranno in uno dei prossimi video Vi saluto Ci vediamo in uno dei prossimi Ciao